Ha riscosso grande entusiasmo il progetto dell'orto didattico avviato questa mattina alla scuola Sant'Agostino di Sciacca. I bambini delle sei classi coinvolte hanno messo a dimora le piantine di ortaggi, verdure e frutta, delle quali si prenderanno cura costantemente. Abbiamo avviato proprio oggi il progetto ortodidattico che è stato promosso dall'ufficio Prevenzione e Salute Aspe di Sciacca con la dottoressa Ferrara, la col diretti in prima linea che ha donato tante belle piantine che abbiamo messo a dimora con i nostri bambini. Saranno le classi prime e terze, ben sei classi, con i relativi nonni a curare queste piante, queste belle aiuole che oggi inauguriamo anche come giardino perché abbiamo utilizzato i fondi europei del PON ed UGRIN, cosiddetto proprio per acquistare e realizzare questo bel giardino che sarà uno spazio didattico aperto, esterno, per la nostra didattica del fare. Partiamo dall'ortodidattico, faremo tante altre cose, abbiamo anche a disposizione una serra in policarbonato, sei grandi aiuole, abbiamo una parte coperta, tante panchine, aiuole, i bambini si prenderanno cura dei fiori e degli ortaggi. Beatrice Curreri, stamattina che cosa avete piantato? Abbiamo piantato delle fragole, delle cipolle, lattuga, sedano, pomodori e anche fragole. Adesso lo sai che il compito vostro è di curare giornalmente tutte queste piantine? Sì, lo dobbiamo curare, coltivare in una fiera e sarà bello vederle crescere per poi raccoglierle a maggio. Cosa ne pensi di questo orto didattico? Penso che ne sia molto bello perché piantiamo delle piante come appunto pomodori, cipolle e tante altre cose e quindi ringrazio le maestre, la dirigente e i nonni che ci hanno aiutato a fare questo orto didattico. Adesso dovete innaffiare le piantine tutti i giorni e curarle? Sì, sì, l'orto didattico del via oggi, ma poi li innaffieremo, vedremo poi una volta a settimana, non si sa, o due volte, non lo so, poi li cureremo. Diversi nonni che sono stati coinvolti questa mattina nell'avvio dell'orto didattico, iniziativa che è stata promossa in collaborazione con l'Ufficio Prevenzione e Salute dell'ASP e con la Col Diretti di Sciacca. Noi ormai ci teniamo tanto a proporre delle esperienze, delle buone pratiche. Abbiamo negli anni lavorato sugli aspetto soprattutto informativo e cognitivo per le scuole, ora stiamo cercando proprio di far fare ai bambini esperienza, per cui l'orto è una buona pratica che permette ai bambini di fare esperienza, perché vediamo appunto la piantina crescere, la piantina che poi portiamo a casa e possiamo anche gustare e mangiare, ma soprattutto possiamo curare. Noi credo che oggi anche un'attenzione importante è proporre ai bambini delle cose di cui avere cura. Allora l'orto ci permette di poter raggiungere tanti obiettivi legati appunto all'educazione e alla salute. Oggi abbiamo portato varie tipi di piantine, piantine che rispettando la stagionalità porteranno i loro frutti a maggio, quando poi insieme con la collaborazione dell'Istituto Alberghiero, la scuola e anche l'ASP faremo una festa della primavera, quindi raccoglieremo i frutti del nostro lavoro e degusteremo insieme. E' importante che i bambini capiscono che noi siamo ciò che mangiamo. Col Diretti ci crede tantissimo, fa tanti progetti nelle scuole proprio per sensibilizzare i bambini, quindi tornando a casa le loro famiglie, per poter mangiare bene, mangiare sano, mangiare cibo genuino italiano, cibi a chilometro zero, cibi che sono proprio fonte della nostra terra. Quindi verdure e ortaggi di stagione? Ci saranno le melanzane, i pomodori, il prezzemolo, le fragole, qualche piantina anche di fiori, abbiamo portato gli spinaci, diciamo che sono tutti cibi alimenti che dovrebbero e conoscono grazie al fatto che consumiamo abitualmente e che loro sperimenteranno proprio con mano, saranno loro gli ortolani che poi porteranno a frutto tutto questo lavoro che insomma inizia oggi e si concluderà con una bellissima festa a maggio. Grazie. Grazie.